La Capitanata nel mirino dei furti, nelle campagne, la CIA Agricoltori della provincia di Foggia scrive ai sindaci delle città interessate Foggia, Manfredonia e San Severo. Proprio in Capitanata 17 agenti del nucleo di vigilanza della regione, uno per ogni 400 km2, risultano pochi per poter verificare e monitorare la situazione. Nel capoluogo si moltiplicano i furti di uva e gli ambulanti che rivendono il prodotto di incerta provenienza. Questa è la denuncia della CIA Capitanata che con due lettere ufficiali inviate al sindaco di Foggia Mariaide Episcopo e al sindaco di Manfredonia Domenico Lamarca ha evidenziato quanto sta accadendo nelle ultime settimane. A un lato, nelle aree rurali di Foggia e degli altri comuni della provincia, si stanno verificando diversi furti di uva da tavola. Dall'altro, in piazza e strada del capoluogo del centro Zipontino, dicono dalla CIA, si segnala un aumento di rivenditi ambulanti che spongono e vendono uva da tavola di incerta provenienza. Proprio ai comuni di Foggia e Manfredonia, la CIA ha chiesto di mettere in essere tutti gli strumenti e le azioni di controllo per contrastare il fenomeno. La questione dei furti nelle campagne è stata al centro anche di una conferenza di servizi, convocata dal comune di San Severo, che si è tenuta proprio nelle ore scorse, durante la quale hanno partecipato le forze dell'ordine, le associazioni agricole, tra cui appunto CIA Capitanata, produttori agricoli e amministratori comunali. I furti nelle campagne, ha dichiarato Angelo Miano, il presidente di CIA Capitanata, costituiscono ormai da diversi anni un problema molto grave nel nostro territorio. Arrecano danni importanti alle imprese agricole che vedono sottrarsi la fonte del loro reddito e il frutto dei sacrifici e del lavoro. In alcuni casi i grappoli vengono rubati quando ancora su di essi agiscono i trattamenti per prevenire l'insorgente di fitopatologie. Gli imprenditori agricoli si sentono abbandonati perché, alle forze dell'ordine e alla magistratura, che pure svolgono un lavoro incomiabile, non sono assicurate le risorse e i mezzi sufficienti per controllare un territorio così vasto. A San Severo, dice Nicola Cantatore, abbiamo illustrato il documento elaborato dall'ufficio legislativo di CIA Puglia che ha per tema il sistema pugliese di sicurezza rurale, disfunzioni, incongruenze e proposte di modifica. Nel documento, attraverso una serie di dati, si dimostra come sia ormai ineludibile. L'esigenza di una riforma profonda del sistema di sicurezza rurale. Vigilanza e controllo specifico delle aree rurali in Puglia compete soprattutto al nucleo di vigilanza ambientale incardinato nella sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia. In provincia di Foggia, quella che un tempo era la Polizia Provinciale, è stata di fatto svuotata in seguito al trasferimento in blocco presso il nucleo regionale, nucleo che, in Capitanata, può contare solo 17 agenti. Le proposte della CIA, dunque, che sono contenute nel documento elaborato, è la necessità di una riforma del sistema pugliese della sicurezza rurale ad iniziare dal rafforzamento del coordinamento della Regione e del rilevante potenziamento della pianta organica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.